Ben trovati, ben trovati ancora in diretta su Telequattro in questa giornata di sabato che a breve vi darà conto anche delle notizie del giorno nell'edizione delle 13 e 20. Allora, una delle notizie del giorno è quella relativa alle vaccinazioni anche a Villa Manin, cioè i luoghi della cultura che vengono utilizzati anche per effettuare le vaccinazioni. Purtroppo non è possibile collegarsi con l'assessore Riccardi con il quale avevamo concordato prima un collegamento, probabilmente lo faremo successivamente nel corso dei nostri telegiornali. Allora, riprendiamo con le notizie del giorno, andando a vedere quelle che sono le notizie in pagina in questo momento, ad esempio sul sito, sull'home page del quotidiano Il Piccolo, torna la Trieste o Piccina, ma i residenti protestano strada bloccata per troppe ore, parleremo anche di questo, ne parleremo sia dal punto di vista sportivo che non solo al Tg e poi nel Caffè dello Sport. Tra le altre notizie, ubriaco, aggredisce infermiera Cattinara, denunciato anti-Covid 3.418 controllate in sei giorni. Andiamo un attimo, rietriamo in studio per andare anche a livello nazionale con quelle che sono le dichiarazioni che arrivano direttamente dall'Agenzia Vista. Partiamo da quella che è la situazione pandemica, in particolare Rezza, il Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministro della Salute, ha parlato del tema delle varianti. Sentiamo cosa ha detto in conferenza stampa. Naturalmente possiamo sempre aspettarci un giorno, ma auguratamente, che emergano delle varianti più resistenti a questi vaccini, allora bisognerà aggiustarne la composizione, così come avviene per esempio con l'influenza. Naturalmente sono previsioni che possiamo fare, che sono delle situazioni che non possiamo escludere, ma di cui non dobbiamo neanche essere certi. Quindi questi fattori potrebbero, come vedete, in qualche modo impedire il raggiungimento dell'immunità di greggio, ma allo stesso tempo potremmo raggiungere invece quello che è il controllo dell'epidemia. Tre parole dunque del Comune di Rezza, Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute, che ha dato anche quello che è il quadro settimanale della pandemia nella conferenza stampa settimanale, precisando un po' quella che è la situazione appunto dal punto di vista delle RT e degli altri parametri a livello nazionale. Andiamo un attimo a recuperarla. Ancora un istante, vediamo se riesco a reperire il filmato. No, faccio sentire invece il tema delle vaccinazioni per i più giovani, affrontato invece dal commissario per l'emergenza pandemica, per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo. Sentiamolo. Riusciamo ad uscire da questa emergenza. Uscire dall'emergenza vuol dire, dopo che mettiamo al sicuro le persone anziane, vacciniamo le classi più produttive, dell'industria, della grande distribuzione, del turismo, dello spettacolo e facciamo ripartire il nostro paese andando ad intercettare la ripresa economica, che oggi è mondiale. Generala, arriveranno più vaccini? Allora, arriveranno più vaccini, me lo auguro. Devo dire, maggio è un mese di transizione. Sono sicuro che a giugno avremo molti più vaccini. I giovani in questo momento devono aspettare. Quando avremo più vaccini, riusciremo ad aprire alle aziende, apriremo in contemporanea, seguendo quelle che sono le indicazioni scientifiche. Queste sono le parole del generale Figliuolo, che invita la calma. In realtà, come avete sentito anche ieri dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si tratta probabilmente di attendere non troppo tempo, perché se le cose vanno avanti così, dal punto di vista dei numeri, delle adesioni, molto probabilmente a giugno si apriranno le vaccinazioni, quantomeno la prima dose a tutti. Rezza, sempre Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, vi dicevo poco fa, ieri ha fatto il report nazionale su casi, incidenza e situazione negli ospedali. Sentiamo. E' ancora a migliorare, seppure gradualmente, la situazione epidemiologica nel nostro Paese. Il tasso di incidenza è di poco superiore a 120 casi di Covid-19 per 100 mila abitanti, ma soprattutto l'incidenza decresce negli ultraottantenni, come primo segnale dell'impatto positivo delle campagne di vaccinazione. Sale di poco l'RT 0,89, ma è ancora ben al di sotto dell'unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di aria medica e di terapia intensiva, si è al di sotto della soglia critica. Dato che siamo di fronte a un periodo di graduali e parziali riaperture, ma soprattutto, dato il fatto che c'è ancora circolazione di diverse varianti virali, è bene mantenere i comportamenti prudenti. Queste le parole dunque di Rezza che settimanalmente sentiamo dare queste indicazioni su quella che è la situazione epidemiologica rispetto al virus. Stavo vedendo se posso farvi sentire ancora qualcosa. Sì, la questione della curva dei contagi in calo in tutte le regioni e poi ancora quelli che sono i dati sull'incidenza del coronavirus. Sentiamo le parole qui di Silvio Brusaferro, portavoce del Comitato Tecnico Scientifico. Sentiamo le sue parole. Il dato, qui i numeri sono piccoli se volete, ma poi in realtà li troverete tutti stampati, disponibili sul sito. Se guardiamo le incidenze, vedete che nella prima colonna parliamo di l'incidenza calcolata secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi l'incidenza da lunedì a domenica, quindi risale a domenica scorsa, siamo a 127 casi per 100 mila abitanti in 7 giorni. Precedentemente erano 146 casi per 100 mila abitanti in 7 giorni. Per quanto riguarda invece il flusso del Ministero della Salute, che risale però la giornata di ieri sera, sostanzialmente, quello quotidiano, siamo a 123 casi per 100 mila abitanti in 7 giorni rispetto a 148 della settimana precedente. Il dato relevante è che comunque continua a decrescita e i due dati sono coerenti, sono armogeni, in qualche modo mostrano questo trend di decrescita. Una notazione che avete citata, da questa settimana nei calcoli dell'incidenza teniamo conto degli dati aggiornati dall'Istat sulla popolazione del Paese, quindi in realtà c'è qualche cambio nel denominatore che è legato proprio ai rapporti Istat, che definiscono in qualche modo in maniera univoco e standardizzata il denominatore degli abitanti del nostro Paese. Questo dunque è il report sull'incidenza del Covid nell'ultima settimana, nell'ultimo periodo in esame. Mentre spesso lo facciamo sentire anche il governatore De Luca con le sue sparate che parla dei centri vaccinali. Sentiamo che cosa dice il governatore della campagna. La campagna di vaccinazione va avanti in maniera eccellente. Tutti i nostri concittadini possono testimoniare che ricevono un servizio di grande qualità. Poi può capitare qualche giornata di affollamento particolare. Parliamo di due milioni di somministrazioni. Ma in generale, nel 99% dei casi, i nostri concittadini possono testimoniare che hanno ricevuto un servizio di assoluta eccellenza. Con grande efficienza, con grande cortesia, si arriva con la prenotazione, si aspetta 20 minuti, mezz'ora, tre quarti d'ora, non di più in generale, si torna a casa. Queste le parole dunque di De Luca che interviene sulla questione dei centri vaccinali, quantomeno quelli della campagna. Andiamo a vedere invece il raffronto rispetto alla curva della contagiosità, della situazione epidemiologica italiana del Covid, rispetto in raffronto a quella europea, sempre brusa ferro dell'Istituto Superiore di Sanità. La circolazione è abbastanza intensa, è comunque più significativa di quanto lo sia nel nostro paese. E questo trova riscontro anche in queste curve. Vedete la curva più evidenziata è la curva dell'Italia, che è in decrescita, ha una decrescita ovviamente più lenta, come ci siamo detti in queste settimane, ma vedete che la situazione negli altri paesi è un po' altalenante. Sono ancora i paesi in crescita, altri paesi sono in decrescita, per esempio la Francia, alcuni paesi come la Germania stanno crescendo, quindi è una situazione di transizione, come abbiamo detto anche nelle scorse settimane, perché poi anche gli altri paesi europei hanno in corso delle campagne vaccinali. Quindi diciamo che in qualche modo nel nostro continente, in particolare nell'Unione Europea, c'è questa evoluzione caratterizzata da una parte dal contrasto alla circolazione e dall'altra al raggiungimento dell'obiettivo delle coperture vaccinali nel più breve tempo possibile. Guardando il dato italiano, questo è il solito screenshot che trovate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, vedete che la curva è in decrescita, è sempre in decrescita lenta. Il dato, se volete, è un po' più significativo, è che questa settimana in tutte le regioni e province autonome abbiamo la decrescita. Queste le parole dunque di Brusaferro sul raffonto tra la situazione continentale e quella italiana. Abbiamo sentito diverse considerazioni, sentiamo anche quelle di Rezza invece sulle terapie intensive che vanno per la prima volta a livello italiano sotto la soglia definita critica dagli esperti. Sentiamo. I dati siano piuttosto chiari, c'è una tendenza al miglioramento della situazione epidemiologica in questo momento. Naturalmente la situazione esige sempre la massima cautela, però a parte l'RT che è più o meno stabile, aumenta veramente di poco, quindi resta in maniera significativa al di sotto di 1, comunque sia. I dati di incidenza mostrano sempre questa tendenza a una graduale diminuzione, così mi sembra che per la prima volta abbiamo sia l'occupazione dei posti di area media che è l'occupazione dei posti di terapia intensiva al di sotto della soglia critica. Quindi c'è una certa decongestione dei posti sia di terapia intensiva che ospedalieri. Naturalmente parte di questo effetto è dovuto alle misure che erano state prese nelle settimane precedenti, che hanno preceduto queste parziali e graduali riaperture, sia in parte all'iniziale effetto della campagna vaccinale. Mi sembra soprattutto nelle età più avanzate, quelle che erano target di infezioni di ultraottantenni, sembrerebbero dare un effetto che potrebbe essere anche un effetto duraturo, come lo spieghiamo. Da questo punto di vista ci sono degli elementi di conforto. Naturalmente è bene nel momento in cui c'è questa tendenza a una parziale, graduale riapertura di molte delle attività continuare la campagna di vaccinazione. Questa accelerazione c'è stata, ormai superiamo molto frequentemente le 500 mila vaccinazioni al giorno, il dato estremamente positivo e naturale, bisogna continuare a tenere dei comportamenti comunque sia prudenti. Bene, dunque la solita conclusione di Edirezza che i comportamenti prudenti li cita sempre nei suoi discorsi dopo aver dato le varie notizie. Un'ultima battuta ancora di Brusaferro sull'indice RT che però risale lievemente, parametro tra l'altro un po' contestato, soprattutto quando si va sotto una certa soglia di casi e si chiede da parte delle regioni di toglierlo come parametro di rimente, specie guardando all'estate. Per quanto riguarda l'RT, l'RT come vedete è un RT che oggi si stima intorno allo 0,89, in leggera ricrescita rispetto alla settimana precedente, ha però un intervallo di confidenza compreso da 0,85 e 0,91, il che ci dice una cosa importante, anche nell'intervallo di confidenza più elevato è ben al di sotto del valore di 1, il che vuol dire che in questa fase l'epidemia non sta ripartendo, ma essendo sotto 1 tenda a decrescere e questo è un elemento importante. E come vedete questo è vero un po' in tutte le regioni, c'è soltanto una regione, il Molise, che ha il valore puntuale superiore a 1, ma come vedete avendo dei numeri molto piccoli, ha degli intervalli di confidenza molto ampi e quindi il valore è piuttosto instabile. Questa dunque è la situazione, abbiamo cercato di fare un quadro della situazione Covid a livello nazionale, tra poco in diretta con il nostro telegiornale delle 13.20. Buon pomeriggio e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Telequattro. Da lunedì la campagna vaccinale accelera, aprendo le agende anche ai cinquantenni. La platea interessata conta circa 197 mila persone. La novità principale è il tempo più lungo d'attesa tra la prima e la seconda iniezione, che sale a 42 giorni per Pfizer e Moderna. Il servizio in una sorta di istruzioni per l'uso della nostra Laura Bucarella. Da lunedì 10 maggio via le prenotazioni del vaccino anti-Covid anche per i cittadini tra i 50 e i 59 anni. Il vicepresidente Riccardi ha precisato che, come previsto a livello nazionale dal commissario Figliuolo, per i nati nel 71 è necessario aver già compiuto i 50 anni. Ma è probabile che anche i più giovani non debbano aspettare ancora per molto. Ieri il presidente Fedriga ha infatti anticipato che la campagna potrebbe essere estesa presto a tutti già dal mese prossimo. La fascia d'età riguarda in Friuli Venezia Giulia ben 197 mila persone, alle quali vanno sottratte le circa 42 mila che hanno già prenotato nell'ambito delle vaccinazioni per categoria professionale. A loro, come da indicazione nazionale, saranno somministrati Pfizer o Moderna. La novità già anticipata ieri riguarda l'intervallo tra la prima e la seconda iniezione, esteso a 42 giorni dai precedenti 21 o 28. Lo scopo è di coprire dal rischio il maggior numero di cittadini nel minor tempo possibile. Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso il call center regionale 0434 223522, gli sportelli CUP, le farmacie abilitate e la web app. Anche le persone delle altre fasce d'età che si sono già prenotate in precedenza potranno, se lo vorranno, chiedere di anticipare la data di vaccinazione. Inoltre è bene ricordare che la campagna vaccinale prosegue anche per tutte le persone d'età comprese tra i 18 e 59 anni con patologie croniche, al personale scolastico, universitario, alle forze di polizia, forze armate, guardie di finanza, vigili del fuoco, personale delle dogane, organizzazioni di volontariato della protezione civile che siano impiegati in prima linea, oltre ai sanitari non ancora vaccinati e naturalmente ai fragili e agli over 60. Al momento della vaccinazione è bene portare la scheda anamnestica e il consenso informato. In più i cittadini con patologia devono portare documentazione che l'attesti, ad esempio la tessera sanitaria con codice esenzione o una diagnosi specialistica. Più interventi per pazienti affetti da patologie urologiche e neoplastiche nonostante l'impatto del Covid sul sistema sanitario. E' quanto accade a Gorizia e a Monfalcone, dati che Telequattro rivela per la prima volta nel proprio Tg. Anche in pandemia c'è chi dice no, in riferimento alla canzone di Vasco Rossi, calza a pennello per quei medici, tanti, che non cercano la polemica ma semplicemente continuano a fare il proprio lavoro, magari addirittura riuscendo, grazie a sacrifici straordinari, a eseguire più interventi urgenti rispetto all'anno scorso, nonostante le conseguenze del Covid sull'apparato sanitario. E' il caso della struttura complessa di urologia del presidio ospedaliero di Gorizia e Monfalcone, diretta dal dottor Fabio Vianello, il direttore dell'Urologia Isontina. Infatti ha scritto una lettera al presidente della regione, Massimiliano Fedriga, in copia all'assessore Riccardi e al numero uno di Asugi Poggiana, in cui si dissocia dal significato di manifesto di denuncia attribuito alla missiva inviata il 30 marzo dai direttori di urologia della regione e poi diventata di pubblico dominio. Quella, spiega, doveva essere una sorta di comunicazione interna nell'ottica costruttiva di trovare insieme soluzioni condivise per affrontare il periodo critico della pandemia. Detto questo, Vianello ha precisato come ci siano centri che hanno sofferto di più e altri di meno. L'Urologia di Gorizia, spiega, nonostante il dimezzamento delle sedute operatorie e dei letti di degenza, ha sempre continuato ad operare. L'ambulatorio ha sempre funzionato senza riduzioni, riaprendo pure quello di Monfalcone, chiuso sin dall'inizio della pandemia. Quanto ai casi più gravi, quelli affetti da neoplasia, la struttura è riuscita addirittura a fare meglio dell'anno scorso. Le tabelle parlano chiaro. Il numero degli interventi eseguiti a Gorizia e a Monfalcone per la patologia neoplastica uroteliale, quella più stressata dal documento manifesto a cui ci si riferisce, nei primi quattro mesi dell'anno sono stati 99 contro i 97 del 2020. Per quanto riguarda invece il numero di interventi per altre neoplasie urologiche, l'incremento è stato di 10 unità, da 23 del 2020 a 33 del 2021. Questo spiega Vianello perché abbiamo avuto la possibilità di dare maggiore spazio alla chirurgia cosiddetta maggiore rispetto all'endoscopia, per massimizzare i tempi d'utilizzo delle sale operatorie senza necessità di avere a disposizione molti posti letto. Un messaggio tranquillizzante a quanto scrive Vianello, che non significa però dire che tutto va bene, ma che per i pazienti gravi è stato garantito a Gorizia e a Monfalcone il massimo livello di cure possibile. E torniamo alla pagina della cronaca. 36 cuccioli di cane maltrattati stipati in un furgone sono stati salvati dalla Polizia di Stato di Gorizia. Ci racconta tutto il nostro Gianluca Paladì. 36 cuccioli di cane stremati, maltrattati, stipati in un furgone dentro gabbia angusta in pessime condizioni. L'operazione di rintraccio è stata svolta dalla Polizia di Stato di Gorizia, che ha fermato all'ex valico di Sant'Andrea un furgone proveniente dalla Serbia per un controllo. Durante l'ispezione del veicolo gli agenti si sono subito accorti del particolare trasporto in cui era coinvolto il furgone guidato da un cittadino italiano. Per esami più approfonditi il mezzo è stato scortato all'assedio della Polizia di Frontiera di Casa Rossa. Gli agenti hanno rinvenuto dentro il furgone 36 cuccioli di cane appartenenti a razze tipicamente impiegate nella caccia, come segugi, bracchi e setteri inglesi. Pochissimi di questi erano dotati di passaporto e microchip, mentre gli altri erano privi di qualsiasi dato identificativo e della completa documentazione sanitaria. Otto di questi cuccioli erano dentro un'unica gabbia tenuta in pessime condizioni. Il veicolo utilizzato è stato ritenuto del tutto inidoneo al trasporto di animali. Addirittura alcuni di questi cani di più grosse dimensioni erano stipati in gabbie talmente piccole da non farli stare in posizione eretta o distesa. Il conducente del furgone è già stato coinvolto in passato in un episodio di questo tipo ed è stato denunciato per la violazione delle norme sul trasporto di animali. I 36 cuccioli sono stati invece affidati alle cure dei veterinari del canile sanitario aziendale di Udine. La polizia di Gurizia invece sta anche procedendo per il reato di maltrattamento di animali. Proseguiamo con le altre notizie di cronaca del giorno riassunte nel nostro spazio in breve. In giro ubriachi e senza mascherina dopo il coprifuoco. Per questo due giovani triestini la scorsa notte sono stati multati dalla polizia. È successo verso l'una di notte in via delle beccherie. La polizia è intervenuta a seguito di varie segnalazioni di schiamazzi alla sala operativa della questura tramite il 112. Una volta giunti sul posto gli agenti li hanno identificati e invitati ripetutamente a indossare le mascherine. Al loro rifiuto sono stati sanzionati. Un'ora e mezza dopo alle 2.30 è stata sanzionata anche una coppia sorpresa in giro dopo il coprifuoco in riva del Mandracchio. In palese stato di alterazione alcolica ha aggredito un infermiere presso il pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara e ha opposto resistenza agli operatori di una volante intervenuta. Protagonista dell'episodio è un 19enne triestino che la scorsa notte è stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. È stato anche sanzionato per aver violato la normativa antipandemica. E nel corso dell'attività disposta dal questore Irene Tittoni per monitorare l'osservanza della normativa anticovid da domenica a ieri, venerdì 7 maggio, la Polizia di Stato ha controllato nell'intera provincia 3.418 persone sanzionandone 15 di cui 8 durante le ore del coprifuoco. Un soggetto è stato denunciato infine all'autorità giudiziaria perché non ha rispettato la misura dell'isolamento fiduciario mentre sono stati controllati 650 esercizi e attività commerciali senza riscontrare irregolarità. Allora proseguiamo, proseguiamo con il grande cinema su Telequattro. Jack Nicholson ma anche Alain Delon fra i protagonisti delle pellicole che trasmetteremo in prima serata e chi se non Umberto Bosazzi per presentarli. Friedrich Dürrematt e Georges Simenon, i film che Telequattro propone fra stasera e domani sono tratti da due romanzi brevi scritti dai due autori e rappresentano due esempi particolarmente felici di trasposizione cinematografica. La promessa, diretta da Sean Penn nel 2001, vede straordinario protagonista Jack Nicholson in una prova di efficacissima misura nei panni di un poliziotto che finisce per precipitare nella follia volendo mantenere a tutti i costi la promessa, fatta ai genitori di una bambina assassinata, di ritrovarne l'assassino. Il cast di supporto è incredibile, Helen Mirren, Benicio Del Toro, Vanessa Redgrave, Sam Shepard e Harry Dean Stanton. Domani invece tocca l'Evaso, tratto nel 1971 dalla vedova Cuderc di Simenon, diretto da Pierre Grarnier-Deferre. Il film è bellissimo, racconta la vicenda di una donna avanti con gli anni che si innamora di un misterioso personaggio che capita nella sua fattoria nella Francia contadina. Tutto finirà tragicamente, stante il clima di odio maturato causa l'atteggiamento dei familiari acquisiti della donna. Gli interpreti sono letteralmente meravigliosi, Ottavia Piccolo, Alain Delon, ma soprattutto una stupefacente Simone Signoret in una delle interpretazioni più intense e struggenti della sua carriera. E allora parliamo anche di altri fronti culturali. Il più recente volume della collana d'arte della Fondazione Cire Trieste, dedicato ad August Cernigoi, è stato presentato ieri durante la puntata di Trieste d'arte di Trieste in diretta. Ci racconta tutto in questo servizio il nostro Umberto Bosanzi. La Fondazione Cire Trieste ha scelto nuovamente Trieste in diretta per la presentazione ieri del più recente volume della collezione di storia dell'arte, dedicato ad August Cernigoi. L'impostazione, impressa dal professor Alessandro Puppo, curatore dell'iniziativa da qualche anno, prosegue la carrellata cronologica dei protagonisti del panorama artistico cittadino, affidando i volumi a studiosi non triestini. La prospettiva è diversa ed è giusto perché anche noi ci conosciamo meglio se ci vedono gli altri e quindi credo che questa sia una buona opportunità che la collana anche in qualche maniera ha stimolato non solo per gli autori ma anche per quello che è intorno agli autori. Di August Cernigoi e delle avanguardie della Mitteleuropa si è dunque occupato il milanese Matteo Bonanomi, il quale è dovuto muoversi con estrema cautela, unitamente ad un notevole rigore accademico, nell'analisi di un artista nato nel 1898 e scomparso nel 1985 e che dunque, oltre ad aver vissuto una temperia artistica non indifferente, Bauhaus, avanguardia, costruttivismo e una stagione finale per nulla ripiegata su se stesso, ha attraversato da italiano di origine slovena gli anni certamente più complessi per la vita politica e sociale della città. L'autore che ha letteralmente attraversato il secolo, in quel secolo, in quella collocazione storica e geografica, interrogarsi sul nome non era un puro esercizio filologico, perché significava anzitutto riconoscere una cultura nativa, nel senso proprio del termine, e poi vedere anche come e quante volte molto spesso il nome stesso dell'autore è stato oggetto di modifiche, di parafrasi, di errori o di manipolazioni. Il volume, accompagnato dal consueto ottimo apparato iconografico, presenta un'appendice dedicata ad alcuni autori, Pilon, Carmelich, Spazzapan, Carama, Scherini, Lann, Esperizi e Spazzal, ed inquadra i rapporti fra questi e Cernigoi. Sono stati o amici di Cernigoi, o dai quali Cernigoi è attinto sia nel primo dopoguerra, quindi all'inizio degli anni venti, ma anche nel secondo dopoguerra, a partire per esempio forse da Venopilon, Venopilon è un modello di riferimento per Cernigoi, perché prende spunto anche da un punto di vista artistico. Molte opere di Pilon, molti stilemi si ritrovano in Cernigoi. Il prossimo volume, ancora in gestazione, sarà dedicato a tre figure femminili dell'arte triestina. Allora, la situazione meteo in Friuli, Venezia, Giulia, oggi sabato 8 maggio, tempo stabile, vento di bora, temperature tra i 10 e i 13 gradi le minime, tra i 16 e i 18 le massime. Domani una domenica di bel tempo, tra i 10 e i 13 gradi le minime, tra i 17 e i 20 le massime, sole, ancora un po' di borino e poi venti a regime di brezza. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ci risentiamo questa sera alle 19.30.